Buonasera, Eibol. Oggi è stata una delle giornate più importanti della mia vita, di quella di tutti, perché oggi c'erano i provini per la squadra delle Fear Leader. Claudine e io abbiamo voluto farlo per Draculaura perché noi tre stiamo sempre insieme. Noi ardiamo! Guarda qua! Noi ardiamo! Attenti! Ups! Bella prova! Un applauso per It! La prossima è... Claudine! Una semi-umana nella squadra? Datemi una A, una I, una U, una T e una O. Aiuto! Graffiesco! La prossima è... Frankie! Quala zampa! Puoi farcela, Frankie! Se sei nervosa, ricordati del gelatocchio alla festa post-spettacolo! Nuova tradizione! Sì! Mangerò quel gelato così velocemente che mi si ghiaccerà il cervello! Datemi una X! Datemi una V! Datemi una Q! Come si scrive? Oh! Aspetta! Ehi, che lettero ho detto? Grazie mille, Frankie! Ma che entusiasmo!